Breve video solo per avvisarvi che questa mattina il prezzo di bitcoin è salito momentaneamente sopra i 16.000 dollari, in particolare se guardiamo il grafico vedete proprio un momento è stato sopra i 16.000 dollari, poi è di nuovo risceso, ora è attorno a 15.900 dollari. E la cosa interessante è che era da gennaio 2018 che non tornava più attorno a quota 16.000 dollari, tra l'altro durante la bolla speculativa di fine 2017-2018 il prezzo di bitcoin rimase sopra quota 15.000 dollari solamente per 15 giorni consecutivi, poi riscese, risalie eccetera, adesso siamo a 4 giorni consecutivi sopra quota 15.000 dollari. Quindi siamo veramente su livelli simili a quelli che c'erano praticamente durante la bolla speculativa di fine 2017 escludendo per ora il picco a 20.000 dollari.